buongiorno fuori piove ma dentro casa per fortuna no questa mattina inizio preparando dei panini per accogliere i miei genitori con il profumo di pane appena sfornato ho intenzione di fare dei bagels seguendo una ricetta che ho trovato su pinterest e che vi linkerò in descrizione la seguo come linea generale perché in realtà ho fatto qualche piccola modifica metto tutto nella planetaria in modo che lavori lei al posto mio l'impasto però mi piace sempre finirlo a mano mi piace la consistenza dell'impasto del pane e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopodiché si possono aggiungere ad esempio i semi di sesamo. I miei genitori non sono venuti a mani vuote ma hanno riempito casa nuovamente di scatoloni, quindi tocca fare un po' di ordine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ebbene sì, hanno portato anche l'uovo di Pasqua. Finalmente ho vestiti e scarpe estive, ma questo significa riordinare completamente la cabina armadio. Io ci ho provato innanzitutto per mettere un po' a posto, ma c'è ancora del lavoro da fare. Grazie a tutti. Finalmente una meritatissima pausa caffè o meglio cappuccino. e dopo la planetaria benvenuto tostapane. Questo era dei miei. Hanno portato su anche tanti libri. Per adesso ho portato su soltanto due scatoloni perché non so dove metterli. Mi sono ritrovata a sfogliare qualche fumetto, qualche libro e mi sono venuti in mente tanti ricordi, soprattutto su Cisacobe. e poi ci ho portato su soltanto due scatoloni. E poi ci ho portato su soltanto due scatoloni. Grazie a tutti. E' arrivato il momento. Apriamo questo uovo di Pasqua. Sono, sì, completamente buia perché sono contro luce, ma dobbiamo aprire l'uovo. Oh, finalmente un nuovo semisquaglio da questa parte però fondente. Sembra il remake del vlog di Pasqua. Non ci credo. E' l'ennesimo koala, non ve lo dite. E' l'ennesimo koala. Giusto per farvi capire, questo è il koala di quest'anno. La macchinetta mi odia. Comunque questo è il koala di quest'anno e questo è il koala che ho trovato l'anno scorso. Ma ne ho veramente tanti di questi mini koala. Sono tutti leggermente, leggermente diversi. Tipo, questi hanno il colore diverso e la faccia, soprattutto il naso diverso. Ma la posizione è sempre quella. Sono però super morbidosi. Adesso devo far sapere ai miei che cosa ho trovato nell'uovo. Rideranno tantissimo, non sono sicura. In questi giorni mi è arrivato anche un nuovo fumetto da parte di Sonda Edizioni, che ha tradotto la mia amica Erika. Pausetta Animal Crossing immancabile. Tra l'altro vorrei avere queste bellissime hortensie. Il riordino però deve continuare. Adesso tocca ai manuali. E svuotando la cassettiera ho ritrovato dei ricordi assurdi. Mi hanno poi portato un po' di ciliegie e qualche nuova pianta per arricchire il mio orticello sul balcone. Tra l'altro mi sono accorta che la Monstera ha due nuovi ospiti. Spero che questo vlog vi abbia tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!